Weeey! Non pescare un'altra scusa! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIYE! Weeey! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi anche oggi un bel po' di novità per quello che riguardano le ultime 24 ore di Fortnite Tanti gli argomenti che vengono ogni giorno scoperti dai leakers in tutto il mondo Io cerco sempre di tradurveli al meglio in italiano e di farvi un pochettino capire ciò che succede e ciò che succederà ovviamente su Fortnite Andiamo subito a parlare ragazzi di quello che vedremo oggi nel video il nuovo pack Final Reckoning Ora io non so bene come venga tradotto Reckoning in italiano dovrebbe essere... boh Reckoning E vedremo un paio di skin super interessanti in questo nuovo bundle ma parleremo anche della porta misteriosa In realtà il grande segreto del capitolo 2 di questa prima stagione di Fortnite Nessuno ci ha ancora parlato tantissimo perché siamo tutti impegnati a capire, ad andare, a scoprire, a memorizzare le mappe e le location nella mappa Quindi vi farò vedere anche qualcosa di interessante e ovviamente una bella sbadilata di leaks per tenervi sempre aggiornati sul dietro le quinte Prima comunque volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi seguono in live su Twitch dalle 8 alle 18 e ovviamente grazie anche a tutti quelli che mi supportano con il mio codice creator Xyuderone Dai raga mi raccomando anche iscrivetevi ai canali e soprattutto Attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video Prima comunque la domandina ve la devo fare e vi ringrazio anche per avermi risposto ieri in tantissimi nei commenti proprio qua sotto Domanda di oggi semplicissima A che livello sei arrivato? E qua andiamo avanti ragazzi oramai ottobre è quasi finito novembre i primi di dicembre arrivederci La season è finita questa season dura veramente poco quindi bisogna darsi da fare Per il livello io attualmente sono al livello 28 ovviamente pass battaglia partendo da zero non ho preso livelli extra quindi piano piano cerco di andare avanti e dovrei in teoria riuscirci Ma quindi ciancia alle bande E bando alle ciance andiamo subito subito ragazzi a vedere anche un'informazione super interessante Questi questi se devo ricordarmi che è sempre di qua Quelli che sono i bug che in questo momento Epic Games sta cercando di risolvere E come vedete in cima a tutti lo sappiamo il report FPS issues on PC Quindi il problema che per i giocatori da computer ci sono dei problemi con gli FPS Lo sappiamo lo sapete io non me ne accorgo neanche però chi gioca un pochettino più Sicuramente ci avrà fatto caso prima nota da sistemare il prima possibile Abbiamo anche dei problemi che effettivamente sono fastidiosi ogni tanto non appaiono gli amici nella lista di amici Personalmente mi succede sono costretto a riavviare e poi tutto funziona alla normalità Oppure magari ve li fa vedere ma con il lucchetto quindi sistemeranno anche questo Altri cose un pochettino più meno importanti diciamo rimangono ancora a volte le medaglie sullo schermo Quando le completiamo problemi ancora per chi ha ricevuto il regalo il pass battaglia Ma non ha ricevuto in realtà gli spray che ci sono stati dati a inizio season E altre due o tre cose per quanto riguarda ad esempio il bottone per le partite in singolo Pronto quindi quello che ci permette di non tornare alla lobby finendo una partita E potendone quindi ricominciare un'altra guadagnando un sacco di tempo Speriamo ovviamente che nella prossima patch notes che sarà martedì prossimo senza downtime Fixeranno almeno le cose più importanti E andiamo avanti con il prossimo argomento Parliamo del bundle in arrivo Sicuramente avete visto se non l'avete visto andato a dargli un'occhiata Nei miei video precedenti La clip dove vi mostro queste skin in game Queste skin le abbiamo viste in realtà già nel termine della season 10 O meglio avevamo visto questi poster che erano affissi nel teatro E un pochettino per tutta Gotham City Pensavamo facessero parte del progetto Batman Gotham City e balle varie In realtà no Fanno parte di un bundle unico e completo Che arriverà non si sa ancora quando Ma si pensa racchiuda tutte e cinque le skin in sé Alcune di queste skin hanno addirittura due varianti Ad esempio è il caso della Stitchy Penso che si dica in inglese In italiano non ne idea Una delle skin criptate del bundle Final Reckoning Dove si vedono appunto le varianti Se devo essere sincero Mi sembra la più bella in assoluta Posso farvi vedere appunto le varianti Qua la ragazza è nella versione Bambola di pezza horror E invece come vedete Se la guardiamo dalla schiena Anche il backpack ha le stesse simile sembianze Questo pack in realtà essendo abbastanza particolare È molto probabile che venga associato ad Halloween No quindi a tutta questa season Che come lo è stato per la precedente E per due season fa O meglio di due anni fa Sempre nel periodo di Halloween Comportava l'inserimento di molte skin a tema Ovviamente il Final Reckoning sicuramente non farà eccezione E volevo farvi vedere un'altra cosa Forse non lo sapete ragazzi Ma circa dalle 21 di ieri sera È stata data la variante Oggi tra virgolette Per i possessori del C-co-co-volo Per i po- Non sono io Per i possessori della Ghoul Trooper Ora io registro questo video Prima dell'uscita dello shop di oggi Quindi non sappiamo Non so se uscirà oppure no oggi È molto comunque Probabile che arriverà Se non oggi Nei prossimi giorni insomma O meglio potrebbe anche arrivare addirittura Nella giornata di Halloween Comunque skin OG Quindi variante rosa Per chi ha già ottenuto O meglio acquistato La Ghoul Trooper nel 2017 Ma chi la acquisterà Otterrà comunque la variante nuova Che è un pochettino più verde e chiaro Con i capelli bianchi E andiamo avanti con il prossimo argomento La nuova skin Trovata La nuova skin delle armi La nuova copertura Trovata nei file di gioco Molto interessante Questa copertura Perché È ancora in Work in progress Come ci leggiamo Dall'immagine Che vi sto facendo vedere Ho comunque un video Della skin Che è molto interessante E io posso quasi affermare Che sia anche questa A tema Ma perché ho visto che Innanzitutto molto molto bella Ma guardate bene Il disegno Sembra proprio il triangolo Degli illuminati Tra virgolette E sappiamo che c'è Una skin in arrivo Che ha come backpack L'ologramma degli illuminati Davvero molto bella anche Questa skin Sinceramente Mi aspettavo di vederla Di una colorazione rosa Più che rossa Però devo dire che fa Sicuramente il suo La sua grande scena Tra l'altro Non volevo dirvelo Ma secondo me Tutto questo set Illuminati Roba del genere Anche appunto La skin Che avevo fatto vedere Nella patch Potrebbero essere Parte Della storyline Ovviamente Appena ne sapremo di più Lo saprete Anche voi E siamo arrivati Oramai Alla fine Abbiamo veramente Pochissimo tempo Allora ho solo modo Di farvi vedere I nuovi bundle In arrivo Arriverà il Cryptic curse bundle Cryptic curse in italiano Dovrebbe voler dire Maledizione della cripta Se non ricordo male Il final reckoning bundle Di cui abbiamo Parlato poco fa Lo straw Stuffed wraps Che invece Potrebbe essere Un pack Di coperture The wave breaker pack Che non è altro Che lo starter pack Di questa season Già presente Nei file di gioco In arrivo probabilmente In questi giorni E vabbè Viene ripetuto The final reckoning Pack bundle Che è la stessa cosa Insomma 4 nuovi pack Non è stato citato In realtà Il fire bundle pack Quello che arriverà Il 5 novembre E che vedrà appunto 13 nuovi oggetti 3 skin 3 backpack 3 picconi 1 emote E 3 coperture Insomma ragazzi Tanta roba Per tutti i collezionisti Tanta roba A tema di halloween Vedremo se arriveranno Anche delle sfide Di halloween Oppure no Per adesso Io vi ringrazio Tantissimo Per aver guardato Questo video Mi raccomando Un bel pollicione In su Iscrivetevi al canale Noi ci vediamo Alle 8 su twitch Ciao Noi ci vediamo Noi ci vediamo